Allora, ho riavviato il giorno Così, vediamo un attimo Quindi i due muoiono in fiamme No, 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 no Ups, scusate Aspetta, volevo andare a riprendermi Eh, proprio di là Vabbè, la La chiave Ah, eccola Ok, che devo capire Che serve Ok Cioè, che serve Dove serve più che altro Allora Qua si va su Lì le porte sono bloccate Ok Vediamo qua cosa c'è Ahà La carta Ancora con lo specchio Ancora questo Secondo me Una di queste prossime maschere Ci dà la possibilità Di attraversarlo Ma devo capire Come impedire Come impedire di entrare O comunque come Oh, una carta È una carta No Ah, sì Ok, ce l'ho arrivato Ok Questa non si può aprire Niente Torniamo Giù Ah, siamo Ok Heaven e Hell Ok, quindi qui intorno Ci dovrebbe essere L'orologio Aspetta Vediamo Eccolo Vai Perfetto Ok No Aspetta Perfetto Ok Questo fatto Allora Poi Quei due lì Finiscono qua Ma Aspettate Aspettate Non è che magari Le macchine Quelle più piccole Ehm Va bene Sono in qualche modo Collegate Aspetta Perché io le ho girate a caso Eh Ecco Qua ce n'è una Ah Non c'ha Non ha Il braccio Per Per girarsi Aspetta Aspetta Secondo me C'entra un qualcosa Questo qua è un quadro Particolare Uh Scusate Devo Secondo me Devo girare Le macchine più piccole Aspetta qualcosa Posso passare Aorum Quello che prendi Questo seriamente Ok Adesso posso passare Aspetta Dove erano Quelle macchine Quelle macchine Questa è la libreria C'è la biblioteca Sì Mi viene da dire Liberia Qua la porta Ok Va bene Ecco qua Qua ce n'è una Ok Io la lascio così Secondo me Devono essere tutte Illuminate Di verde Aspetta Devo cercarla Una era all'ingresso Se non sbaglio Ecco Che è già verde Che è già verde Ah già Qua non si va Da nessuna parte E aspetta No Di là O forse Si Aspetta Devo andare Uh Mi sa che arriva qualcuno Via Devo andare di qua No Devo dare un'occhiata E vedere se erano di qua Anche Mi sembra di no Infatti ma qui non ce n'è Burca Ciao Ok Non mi ricordo Dai su Ok Aspetta Questo è un vetro Proviamo a romperlo Andiamo dove andiamo Non ci intera niente magari Eh però Siamo fuori Ah Lì c'è una carta Ok Succede Però questo qua Non possiamo perdere Va Dobbiamo fare altro Adesso Eh Però abbiamo scoperto Ok I giardini Praticamente Va bene Dicevamo Torniamo di qua Ah Ah Non è più verde Scusa Eh Perché Ok Scusa Aspetta Capire Dove sono finito Aspetta Qua c'è l'orologio Ok E infatti Che due sono illuminati Devo trovarle tutte Eh Se sono Secondo me Sono tutti verdi Eh Questi non muoiono Questi non muoiono Mancano due Purtroppo E una non ha il braccio Una non ha il braccio Maledizione No E qua ce n'era una Ma è senza braccia Non si può girare Questa Eh 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 Maledizione Non si comincerà Eh Infatti Devo Trovare Il braccio E l'altra Macchina Aspetta Aspetta Però mi pare Che fossero Segnate Sulla mappa Fammi vedere Aspetta Ah si Ecco Lì c'è Quella senza braccio Quella All'ingresso Quella lì No Lì non c'è No Sto guardando A meno che Non l'abbiamo Ancora scoperta Quindi non è segnata Giardini Va bene No Lì non Non ne ho viste No A parte che Mi sa che è troppo Troppo lontano Ok Ma Sono qui in zona Di sicuro Secondo me Non l'abbiamo Ancora trovata Una macchina Una macchina Cosa è No Dov'è C'è l'uscita Qui Beh che adesso Il giorno si Via via Quindi Questa è sempre Chiusa Apriamola Scoprire dov'è Allora Allora lì Il fantasma Il passaggio segreto L'abbiamo scoperto Ah Ah niente Devo capire Dove sono Le Quelle Slot machine Insomma In sostanza Ok Ok Torniamo indietro No Aspetta Aspetta Era uscito Attenzione Ok Aspetta Se lo seguiamo Magari Lui c'entra qualcosa Dove è andato Aspetta Aha Adesso c'è il braccio Eh si Guarda C'entra qualcosa Pensa a te Guardalo Vediamo Dove lo porterà Viene proprio di qua Viene proprio di qua Proprio di qui viene Porca vacca Possiamo Ok Vediamo Come sta andando Di là Andiamo Ah non posso Spiare Da qui Però Aspetta Possiamo Seguirlo Così Ah L'ha nascosto Lì Da qualche Parte Non posso Posso entrare Per il momento Però Ok Aspetta Non è ancora uscito Sta venendo di qua Via Via Ok Devo entrare In quella porta Infatti Va che hanno girato Tutte le robe Aspetta va Facciamo il giro largo L'ha nascosto Di là Vediamo Eh sì Devo andare di là Porca vacca Aspetta facciamo il giro Da qui Vediamo No Vabbè Qua c'è una macchina Ok No niente Devo per forza Andare lì Quindi devo aspettare Devo aspettare Che si levino Per capire Dove è nascosto Il braccio Eh sì Qua dice qualcosa Ma non Non capisco Vabbè Ok Va via Non so Deve andare Va via Anche lei Ok Andiamo Andiamo Dove l'ha nascosto? Nascosto Qui da qualche parte Forse sotto una sedia No Qui? Ah Beh No Aspetta 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 Scusa Un attimo E no Perché Abbiamo visto Dove l'ha nascosto Effettivamente Sappiamo che è qui Ma non dove Quindi questo qua è un quadro Scusa Aspetta Mi fa un attimo C'è un quadro Che si vede attraverso Eh sì Ecco come lo scopriremo Lo scopri Eh sì 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 Così Così Niente Devo resettare il giorno Eh sì Allora Devo Andare di là Aprire le tende Ok Veloce Devo essere veloce Che stava per caso Mi è passato per la mente Che quello potrebbe accentare qualcosa Pensa a te Veloce 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 Andiamo No Scusi Non volevo Aspetta Ok Stava entrando Se adesso va a rompere il braccio Ok Allora Ecco Sipario Perfetto Ok Adesso Lui esce da qui Esce da qui E io non posso fare altro che aspettare che passi Aspetta fammi vedere Ah ecco no Anche così però Forse così è più sicuro Aspetto che esce Di qua Ok Adesso ti spio Adesso ti spio eh Maledetto Ottimo Aspettiamo Oh Così vediamo Secondo me Nasconderà dietro lì Dove ci sono i piatti Vediamo eh Ah ecco Ho girato l'armario Praticamente Ok Uno stupido proprietario di ristorante Sta dicendo Vabbè E ride Vabbè Ok Io sono stanco Ok qualcuno Ok Adesso devo aspettare che questi vadano via Se no non posso passare Non posso andare a prendere Il braccio Eh sì Ma è un uomo Ma io pensavo fosse una donna A dire la verità eh Non so però Vabbè Quello che è Perché l'ha detto Sir Sir signore Quindi Pensavo fosse una donna Una vecchietta Invece no Vabbè Allora Aspettiamo E Sta cercando Luca Non è la prima volta che lo senti Cioè che lo leggo Sto nome Lucas Boh Dai su 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 Ok Su su Ho capito Va bene Va bene Dai Su Ok Qualche non si capisce Qui c'è Qui c'è niente Vabbè Ok Vai via Vai via Posto Vabbè Ok Vai Andiamo Madonna Allora Ok Vai L'abbiamo preso Perfetto Ok Torniamo subito indietro Adesso rigiriamo Aspetta Tutte le macchine Che conosciamo E forse sono tre Alla fine Io pensavo Ce ne fosse una quarta Ma credo che forse Ok Oh Perfetto Vai Uno Vediamo se No Si deve Illuminare No Ok Uno Adesso Allora Un'altra Era Era Aspetta All'ingresso All'ingresso È di qua Forse Eccola Ok Perfetto Andiamo all'ingresso Sta arrivando qualcuno Vai Dentro all'armadio La signora della croce No Ma no Perché le giri L'ho messa giusta io Ma pensa a te Ma meno male Guarda Ero qua Dai E forse quella Non la toccano Forse Quella del Del braccio Ok Visto che In teoria Il braccio Non c'è Cioè Loro sanno che non c'è Almeno credo Non so Adesso vediamo Ah Questa è giusta Questa è giusta Aspetta Andiamo a vedere Un attimo Questa è giusta Vado Vado No Qua Teoria Vediamo se Non han toccato Quella No Ok Ok Vediamo Ah no Ne manca una Porca vacca E qual è Mizzega Qual è Allora si Erano quattro Uno Due tre Ne manca una Che non so dov'è Non so dov'è Fine Sì Avevo visto giusto Chissà perché Poi L'ho convinto Che eravessero tre Ehm Maledizione La devo trovare Chissà che O devo seguire Uno dei due Perché era quello grosso Che le stava Facendo girare Per capire dov'è Eh sì Va bene Dai Credo che No Andrò a cercare L'ultima Visto che Manca Allora Ho resettato Il giorno Un'altra volta Perché Credo Stavolta D'aver Capito Dove Cercare Perché lui Quello grosso Aspetta Sto sbagliando Stada Va in giro A Appunto Azionare Le slot machine Qui Però c'è una Esplorando Andando in giro Ho visto Che c'era Una porta Che ci manca E che Oh attenzione Attenzione Aspetta Che è quella Con la password No Ok Infatti lui Mi ricordavo Che era qui Lui Ecco Attenzione Aspetta Ok C'è la signora Aspettiamo Che C'è la signora Che poi è un signore Mi sa Però vabbè Il tipo Qui Tizio E quanto pare Sta cercando Lucas Credo Adesso che ha detto Che Lucas Dovebbe essere qui Vabbè Ok Allora vediamo Un attimo C'è Visto che Il tipo È andato Di qua Secondo me È andato Nella porta E infatti Porca Però siamo arrivati Tardi Porca vacca E poi Ho capito Però cosa devo fare Ho capito Ho capito Ho sbagliato Solo luogo Dove Diciamo Resuscitare Per così dire Allora Ok Facciamo così Diciamo che Suscitiamo qui Stavolta Ecco O ci svegliamo Insomma Fate voi Ok Così Non devo aspettare Che Il tizio Sulla carrozzina Passi Sono già qui Madonna Aspetta Facciamo il giro Cioè questi partono Un po' più qua Ok ho capito Va bene Allora Devo Togliere il disco Ah già Merda La porta è chiusa Qui Porta Devo fare il giro largo Fa Spero di fare in tempo Sì C'è la porta chiusa Non mi ricordo perché Però va bene Ok Tolgo il coso Poi Va bene Accendo Ok Sta arrivando Via 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 Vediamo Dai devo fare il giro Veloce 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 Dai devo fare in tempo Devo fare in tempo Andiamo Ok Ecco Appena in tempo Eh lui chiede Dire la password No Ecco qua Eleanor Ok Ok Così adesso la sappiamo Perfetto Ci ho messo un po' Eh Però Al fine Perché era l'unica porta che ci mancava Qua in zona Quindi cioè voglio dire Ok Adesso io entro Però adesso Non posso entrare Devo aspettare che esca Ovviamente Magari potevo ascoltarlo anche da qua Eh però Non lo so No Forse no Non ci arrivo Fino là da qua Aspetta Facciamo così Adesso lui è qua dentro E dove va a uscire prima o poi Eh Non lo rileviamo eh Non lo rileviamo Secondo me esce E va di qua Allora se io Sto Aspetta lontano Spero non ci metta troppo Vado a uscire Su A meno che Boh Proviamo Ok Possiamo spiare Sì Ok Possiamo spiare Ah Non c'è già più E da dove è uscito Pensa a te Ok Ok Ah qua ci sono dei fantasmi Ah la candela Sì vabbè vabbè ma Dobbiamo attivare Ok No Sapevo che era qua Ok Boh qui c'è Vediamo I fantasmi Va bene Vabbè ok No c'è qualcuno Ah Eccolo Aspetta Eh non è mai uscito Ecco perché non lo trovavamo Ok Comunque bisogna aspettare Perché Tanto lui Va in giro E li tocca Ecco ecco Presto 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 Via 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 No Perché Perché non Ah ok Non l'avevo vista La porta Ok 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 Allora adesso L'uscirà da qui Non girarla Dai Eh Non girarla La cosa Te l'ho messa Già giusta Io Vediamo Secondo me La gira Lo stesso No Invece no Ok Ok Allora facciamo una cosa Aspetta In teoria Questa è già giusta Non so se Va a girarla Però Eh Questa è già giusta Ok Torniamo Di là Alla biblioteca Speriamo Non tocchi niente Ok Lui toccherà Questa Di sicuro Visto che L'abbiamo visto Farlo Ok Quindi aspettiamo Un attimo Devo prima Andare A prendere Il braccio No Aspetta Qua era Vediamo se Comunque Sappiamo Dov'è Anche senza Averlo Eh sì Ok Meno male Quindi comunque Andava Diciamo Riavviato Più volte Il giorno Eh Non Non poteva Non poteva Vedere Tutto In un colpo Solo Ok Ok Era di qua Ok Vai Di braccio Ok Ok No Ok Adesso Vediamo Porca Vacca Tutte giuste Tranne una Oh 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 Eh sì Sta andando Lì Aspetta Aspettiamo Che passi No Passerà No Eccolo Eccolo Ok Adesso Andiamo Alla slot Quella che ha toccato Lui Ok Era di qua Presto Presto Il tempo È tiranno Eccola qua Gira Ok Ancora Ok Perfetto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Madonna Questo è stato Faticoso Oh Trovare quella Benedetto Slot Machine L'ultima Vabbè Aurum Fatto Sì E i simboli Della statua Non capisco Questa Non è la Correta Combinazione Sbagliata Corretta Corretta Sì Io penso Che il Marchese L'abbia cambiata È possibile Ma Se è vero Non ho capito Bene È terribile Immaginare Cosa potrebbe Accadere Vabbè Ok Forse Non ho bisogno Di questo Di questa Maschera Adesso Se la toglie Ok Vediamo Sì Sì Oh Bene Qui non sono entrati Ok Ottimo Ah Boone Love Love Cadio Come stai Amico Did you Eh Hai fatto qualcosa Con L'ascensore Qui Ho un Brutto Una brutta Sensazione Eh Boone Eh Search Of Luke Sta cercando Lucas Non so chi sia Però Sono preoccupato Per lui Eh Ma Eh Non ho capito Eh Ragazzo Ti vuole bene Laffi Looks up Non so cosa È Ha un significato Particolare Ma vabbè Vediamo Non riesco Più a capire Niente Vabbè Ok Vabbè Mi spiace Ma In my day Ai miei tempi Cosa del genere Vabbè Comunque Sì Era importante Che li abbiamo Salvati Ecco la signorina Ah La maschera Di Thanos È mia Ok Cosa fa Sta maschera Thanos Architect Insights Il genio Sì era un uomo Quello lì Alla fine Ok Il genio Dell'architetto Thanos Ok Aspetta Visitare Certe aree Della magione Ah Rivela Memorie E segreti Forse abbiamo Sbloccato Delle nuove porte Forse quelle blu Quelle tutte Con le fiamme blu Probabilmente Ha sbloccato Nuove entrate Un bel brochure Adesso comunque Proviamo Vediamo Lui sa Molto più Di questo posto Di ogni uomo Eccetto Forse per Reggie Con questa Maschera La conoscenza Di Thanos Verrà rivelata A te Cioè a me Vabbè Il monumento Di Thanos Un patto Ma rivela Ma rivela Molto più La magione Vabbè Ok Hai aperto La strada Forse la via In questo caso Non è patto Ma via Sua sotterranea Non so Vediamo Ti voglio ringraziare Vabbè C'è qualcosa Di Prezioso Forse Giù qui Nell'oscurità Che viene A cercare me Provare me A cercare me Vabbè Vabbè Ah ok Lo prendiamo noi Basta che non lo andiamo fuori Ok Ah Un mega orologio Quello Ecco che il giorno Si resetta Ok Praticamente Siamo in sotterranei Adesso Sì Il basame Sì Ok Il fondamento Ok Vabbè Vediamo Se Mi ricorda Ah Quindi ci svela Passaggi segreti All'interno della stanza Forse O cose segrete Vabbè Lo scopriremo All'interno della stanza